32 tennisti, 16 uomini e altre tante donne, i più forti nella categoria Under 14 e Under 16 a livello europeo. Saranno loro i protagonisti del Tennis Europe Junior Master che si svolgerà a Reggio Calabria al Circo Tennis Polimani dal 6 al 9 ottobre. Tennisti di grande livello dunque, provenienti a 17 paesi diversi, si sfideranno da venerdì a domenica prossima per aggiudicarsi un titolo che negli ultimi anni è stato vinto da giocatori del calibro di Nadal, Kim Kleisters, Belinda Bencic, Robredo e Zverev solo per fare qualche nome. Il torneo presentato nella sede del Consiglio regionale calabrese si svolge per la nonna volta a Reggio Calabria la sesta consecutiva. È un riconoscimento che ormai è nella tradizione del circolo per l'apprezzamento che ha espresso in questi anni e il Tennis Europe e la Federazione Italiana Tennis. Ma è anche un apprezzamento che ci viene dalla Regione Calabria sia del Presidente Irto e del Presidente Oliverio che comunque vuole essere qui per dare prova della sua vicinanza a questo circolo storico per tanti aspetti.